Contract, analisi di settore, materiali, stili e nuove frontiere di progetto. Questo è il tema del workshop di infoprogetto organizzato da Action Group presso la sede del gruppo Technogym, leader mondiale nella produzione e commercializzazione di macchine per il fitness e di soluzioni per il wellness. Nella nuova sede avveniristica, inaugurata nel 2012, Technogym ha ospitato un workshop coinvolgente che ha visto susseguirsi gli interventi di product manager aziendali e di architetti e ingegneri specializzati nel contract. C'è un confronto importante che è quello internazionale, ma soprattutto con gli studi di progettazione internazionale che rispetto alle realtà italiane hanno uno zero in più, per cui il tema è che c'è un metodo per diventare aggressivi in un mercato di questo tipo e di rapportarsi a loro. L'unico criterio per farlo è entrare in questo meccanismo che sembra complesso, ma è sicuramente efficiente, per cui è l'unico modo per poter diventare competitivi su alcuni aspetti internazionali. Nel momento in cui viene richiesto un'expertise di un certo tipo, deve avere la possibilità o di essere uno studio grande o di avere degli interlocutori pronti a diventare gruppo e a rispondere, che è quello che facciamo anche noi con realtà simile alle nostre, per cui a volte il confronto con concorsi internazionali che richiedono un numero preciso di architetti e un numero preciso di fatturato dello studio, riusciamo a rispondere semplicemente facendo gruppo con altre realtà simili alle nostre.